Saranno 25 i cittadini non comunitari che potranno partecipare a Interlab, un progetto promosso in collaborazione tra provincia, Camera di Commercio di Firenze e Associazione Arcobaleno, per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese e di attività di lavoro autonomo nel settore dell'artigianato. Già dall'anno scorso abbiamo cominciato a lavorare sul tema dell'immigrazione e la considerazione è che una quota consistente di nuove imprese che vengono aperte nella nostra provincia, vengono aperte da persone che sono extracomunitarie. Quindi mettendo insieme un po' tutta la nostra rete di relazioni, l'esperienza che abbiamo fatto nel campo formativo, l'esperienza che abbiamo fatto nel campo specifico del lavoro con gli immigrati su un progetto di mediazione culturale che abbiamo promosso l'anno scorso sempre col Ministero dell'Interno, abbiamo proposto ai nostri partner questa iniziativa specifica sulla creazione di nuove imprese proprio da parte degli immigrati. Si tende a coinvolgere in questo modo l'imprenditoria artigiana e l'imprenditoria straniera a fondersi insieme, perché questo intervento prevede che una parte delle persone che seguiranno questi corsi di aggiornamento possano affiancarsi ad artigiani che fanno artigianato artistico o di tipo particolare e poter apprendere queste competenze che sono un po' messe in disparte in questi ultimi anni. Abbiamo partecipato in maniera molto decisa a questo progetto e cercando anche di favorire questa integrazione appunto tra cultura straniera e cultura italiana e soprattutto di poter tramandare appunto le nostre radici imprenditoriali, quindi sia il saper fare proprio in maniera artigianale alcuni mestieri che purtroppo per esempio stanno scomparendo e quindi anche questa conoscenza può venire meno. Per questo ecco noi cerchiamo e diffonderemo anche un bando nei confronti delle imprese affinché vi siano degli imprenditori disposti ad accogliere per un periodo appunto di uno stage di sei mesi coloro che frequenteranno questi corsi di autoimprenditorialità. Il progetto si rivolge ai cittadini non comunitari che sono in regola con il permesso di soggiorno in Italia è un progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi ed è un percorso di orientamento e accompagnamento alla creazione di impresa per quanti intendono appunto avviarsi a un'attività di lavoro autonomo in vari settori. Si articola in due fasi, prevede un primo percorso di orientamento alla creazione di impresa e di formazione alla redazione del piano di impresa per esempio e in una seconda fase in cui il gruppo dei partecipanti sarà diviso in due piccoli gruppi una parte continuerà le consulenze per appunto il proprio progetto imprenditoriale e l'altra parte svolgerà uno stage in botteghe artigiane della provincia di Firenze. I corsi sono totalmente gratuiti e lo stage è retribuito. Le iscrizioni ai corsi scadono il 16 ottobre. Per iscriversi basta scaricare la scheda da internet a www.progettointerlab.org oppure telefonare allo 055 27 61 193.